Nel vostro lavoro pastorale cogliete l'opportunità che viene dal fenomeno delle migrazioni, perché nella prospettiva di un ambiente multiculturale sempre più esteso occorre assumere atteggiamenti di reciproco rispetto per favorire l'incontro. Lo scrive Papa Francesco nel messaggio consegnato ai Vescovi della Sloacchia ricevuti nel corso della loro visita ad Limina in Vaticano. La Chiesa è chiamata a proclamare e testimoniare l'accoglienza del migrante in spirito di carità e di rispetto della dignità della persona umana, scrive il Papa, nel contesto di una necessaria osservanza della legalità. Il popolo slovacco, mantenendo la sua identità culturale e il patrimonio dei valori etici e spirituali, legato fortemente alla sua tradizione cattolica, potrà aprirsi senza timori al confronto mondiale e a contribuire ad un fruttuoso dialogo sui temi come la dignità della vita umana e la funzione essenziale della famiglia. Ai Vescovi slovacchi Papa Francesco chiede di cogliere le opportunità che la situazione attuale offre per sviluppare un'evangelizzazione che con un linguaggio luogo renda più comprensibile il messaggio di Cristo. La Chiesa, conclude il Pontefice, deve infondere speranza, riconoscere il ruolo dei fedeli laici, proseguire nello sforzo di accompagnamento delle famiglie, anche di quelle non complete, soprattutto se vi sono dei figli, e valorizzare i giovani.